Qual è il livello di attenzione per Liguria e Piemonte in questi momenti così tragici? Il livello di attenzione è molto alto in tutto il paese. La Liguria non ha motivi di timore particolare, ha alcuni obiettivi strategici come i porti che sono sempre momento di grande attenzione. Il livello di allerta è un livello 2 su tutto il territorio nazionale e anche in Liguria. Io sono in contatto costante con le autorità di governo, prefetture e questure per sapere come stanno le cose. Anche ieri ho incontrato il prefetto di Genova, abbiamo sentito tutti i prefetti. Non ci sono al momento particolari all'anno.